ciao cari argonauti bentornati sul canale oggi volevo condividere un recupero che ho fatto di un fumetto abbastanza importante se ricordate bene in uno degli scorsi video uno dei più recenti vi avevo fatto vedere un mega recupero che avevo effettuato al mercatino dell'usato una manciata di numeri anzi un numero consistente di numeri appunto di albi di mister no che avevo innescato appunto dato origine a questa mia ormai ricerca e quindi recupero di questa di questa serie che mi sta piano piano appassionando e quindi non potevo non recuperare il magnifico numero uno di mister no bellissimo nella sua bellissima edizione originale quindi questo è il numero uno originale precisamente del giugno del 1975 quindi questo è un albo che ha 46 anni e devo dire che per l'età che ha ho recuperato un'edizione abbastanza in buoni discrete condizioni a parte forse questa piccola pieghetta sulla quarta di copertina però per il resto devo dire che in perfette condizioni una copertina ormai famosissima che non ha bisogno di presentazioni veramente stupenda nel suo disegno di galliano ferri e nel suo lettering così se vogliamo artigianale con questa scritta mister no e questo urlo bellissimo con scritto un nuovo esplosivo personaggio perché per la prima volta come vi accennavo anche all'altro video nell'altro video questo è Sergio Bonelli ovvero alias Guido Rolitta fa diciamo da aprivista esordisce con un personaggio diverso dai canoni che fino allora avevano solcato le pagine della delle testate Bonelli quindi parliamo del classico western oppure del western un po rivisto come quello di Zagor eccetera quindi questo è uno dei primi personaggi che rompono un po la monotonia tra virgolette diciamo del genere fumettistico Bonelli e come vi accennavo nel video del recupero del mercatino questo personaggio mister no è un personaggio che rompe un po gli schemi mister no appunto perché è un personaggio ribelle che si ribella un po alla società del tempo allora le storie le sue storie sono ambientate nel negli anni 50 lui è un americano new yorkese che tornato dalla seconda guerra mondiale soprattutto avendo combattuto nella guerra del pacifico si rifugia nel Brasile nell'Amazonia del Brasile quindi la parte un po più selvaggia del Brasile nella città precisamente di Manaus e lì vivrà la giornata come guida turistica perché lui possiede un piper cioè ovvero un un aereo ad elica mono elica monomotore col quale porta in giro turisti e altre e altre persone la prima avventura che mi sono scorpacciato in veramente in una mezz'oretta l'ho letta perché ero molto curioso di vedere di leggere il primo numero è tanto semplice quanto bella e leggendola si vede che Bonelli si rifà molto a quelle avventure americane esotiche un po degli anni 30 degli anni 40 così immerse un po nella nella macchia delle foreste delle giungle del sud america cosa ci ci parla cosa ci ci parla in questo numero sarò sarò molto breve praticamente comincia in la storia comincia con la presentazione del personaggio un po in maniera itchcockiana come faceva itchcock nei suoi serial ovvero c'è un operatore turistico in un'agenzia turistica a new york che ci parla in soggettiva come se noi fossimo dei turisti in cerca di prenotare insomma di insomma con la voglia di prenotare un viaggio ci illustra un po alcune tappe esotiche nel mondo e poi ci dice ah se volete potete andare in sud america manaus dove c'è un mio collaboratore proprio adesso mi ha scritto un telegramma si fa chiamare mister no nome strano che dite e così viene presentato questo personaggio e ci si sposta subito a manaus in un bar marfanato dove troviamo il nostro mister no intendo a scolarsi un ultimo bicchiere di whisky lasciando questo bar perché non ha più il bar non è non ha più a disposizione del whisky che a lui piace quindi va in giro dopo aver dopo essere dopo aver partecipato a una scazzottata con dei bulli con degli energumi all'interno del bar va in giro per manaus nella manaus notturna alla ricerca di whisky cerca tra amici e conoscenti ma trova solo robaccia e quindi torna a casa cercando nel fondo di qualche bottiglia un un goccio di di alcolico ma non trova nulla se non se non altro in quel momento si presenta a casa sua un certo sam questo personaggio abbastanza attacchiato caucasico occidentale con quei occhialoni da sole gli dice lui si presenta dice di essere un ingegnere minerario e gli interessa una guida aerea appunto che lo porti all'interno dell'amazzonia per cercare dei campioni di rocce particolari all'inizio lui non è tanto disposto ad accontentarlo però nel momento in cui lui gli dirà che lo pagherà che mi sembra 500 dollari insomma una cifra abbastanza importante lui subito accetta perché più che altro perché con quei soldi potrà comprarsi del whisky o delle bevande alcoliche di alto livello se un altro partono con quest'aereo sorvolando appunto l'amazzonia e il rio delle amazoni a un certo punto dopo un'oretta un paio di ore di viaggio questo attacker caccia dalla giacca una pistola e lo minaccia lo minaccia di atterrare lì in quella zona gli dice tu adesso sei stato tanto bravo a dirmi che sai atterrare in alcune radure di questa foresta quindi atterra subito perché dobbiamo andare a cercare una cosa particolare atterrano, scendono e questo attacker alla fine si è solo spacciato per un ingegnere minerario ma non è un ingegnere minerario ma è una persona che stava cercando il relitto di un aereo relitto che poi loro riescono a trovare entrano in questo relitto, il attacker lo rivolta come se fossero le tasche dei suoi pantaloni oppure i suoi calzini lo rivolta e non riesce a trovare quello che cerca il mister noire chiede ma tu cosa stai cercando insomma fammi sapere lui è molto restio e ridicente a confessare la cosa se non altro a un certo punto vengono catturati da una tribù locale indigena i guaribos, guaribos adesso non so come va pronunciato e vengono portati nel loro villaggio in questo villaggio trovano un altro uomo che si vede che è un pesce fuor d'acqua un altro occidentale che si chiama Clark Jackson e Clark Jackson riconosce Tucker in maniera agguerrita e lì mister no si trova tra l'ingudi nel martello perché queste due persone si conoscono e hanno un passato tormentoso poi insomma questo Jackson racconta la vera storia che è accaduto ovvero che quel relitto di quell'aereo non era altro che un aereo di una società finanziaria che stava trasportando dei preziosi fino a Manaus no scusate fino in Venezuela durante il trasporto Tucker aveva sabotato l'aereo si era buttato col paragadute e l'aereo era precipitato nel precipitare l'unico sopravvissuto appunto questo Jackson che fu ospitato dalla tribù dei guaribos e lo tenevano lì come se fosse una divinità insomma lo tenevano, lo rifocillavano e quindi vedevano in lui una personalità elevata come se fosse una divinità e quindi era stato ospitato da questa tribù questo Jackson vuole vendicarsi assolutamente vuole uccidere addirittura Tucker chiedendo anche aiuto al mister no mister no siccome non è molto incline alla violenza diciamo gratuita le scazzottate gli piacciono però diciamo la violenza fino a se stessa o comunque la violenza intesa come portatrice di morte per lui non è a lui non aggrada diciamo non è sua politica si rifiuta anzi dice guardate facciamo una cosa andiamocene da qui rappacificatevi l'importante è che adesso non ci serviamo alla vita perché questa tribù non è che sia tanto gentile va bene preparano i bagagli partono e tu gli dici guarda io ho il Piper parcheggiato a qualche miglia da qui lo riprendiamo, decolliamo e ce ne andiamo escono dalla capanna fanno qualche metro vengono beccati da un indigeno che gli lancia una feccia e quindi tutti quanti tutti addosso gli vanno tutti addosso tipo Indiana Jones quando scappa dagli indigeni del Sud America e scappano nella foresta a un certo punto si dividono Jackson gli propone di dividersi e gli dice guarda facciamo una cosa io ho capito più o meno dove è collocato l'aereo voi passate di qua io di là ci dividiamo così loro non diseminiamo partono però a un certo punto Mr. No e Tucker cadono nelle sabbie mobili quindi si trovano intrappolati nelle sabbie mobili e passano dei minuti di terrore se non che a un certo punto a Mr. No viene il lampo di genio si toglie la camicia e la giacca la fa togliere anche a Tucker la lega ne fa tipo a mo' di corda la getta si aggrappa ad un albero e si tirano fuori da queste sabbie mobili capiscono che Jackson li ha traditi per poter prendere l'aereo e scappare e scappare da solo ah perché scusate mi sono dimenticato la cosa più importante perché lo scopo di Tucker era recuperare dal reddito dell'aereo uno zaino pieno di preziosi appunto di diamanti questi diamanti invece li aveva prelevati Jackson e Jackson li portava con sé e quindi voleva scappare con l'aereo raggiungono il Piper di nascosto e vedono che c'è Jackson accovacciato sulla ruota del Piper vanno per salire e vedono che Jackson è morto è stato trafitto da alcune frecce non fanno in tempo a comprendere questa cosa che vengono subito assaliti dagli indigeni si rifugiano sotto l'aereo c'è uno scontro tra frecce, lance, giavellotti e mitragliate, pistolate dopodiché riescono a salire sull'aereo e scappano, fuggono via durante il tragitto chiaramente Tucker cerca di far ragionare il Mr. No di portarlo dalla sua il Mr. No mi dice no basta io ti porto a Manaus e ti porterò e ti consegnerò le forze dell'ordine perché chiaramente sei un criminale e hai architettato tutto questo piano quindi non sei una persona da lasciare libera Tucker a questo punto prende in mano un mitra e lo minaccia dicendogli guarda io adesso tu venrai con me non sei voluto stare a patti non hai voluto accettare i miei soldi benissimo adesso vieni con me ci sono due soci che mi stanno aspettando risalendo il rio delle Amazoni mi stanno aspettando al nord del rio delle Amazoni scendiamo lì infatti lo fa atterrare lì c'è un batterlo con due scagnozzi due soci di Tucker Tucker gli fa portare i diamanti a bordo e lo fa minacciare da questi due altri soci e gli puntano addosso le armi quasi come se lo volessero condannare o uccidere secondo un altro Mr. No con un espediente si fa portare una bottiglia di whisky gli dice a questo punto a meno fatemi bere un po' di whisky si fa portare il whisky lancia una bottiglia di whisky contro uno quello cade perde il mitra lui lo prende insomma spara verso Tucker e quest'altro gli fa fuori e la storia ahimè finisce così perché come era usanza delle storie bonelli di quel tempo la storia prosegue nell'albo successivo ovvero Amazonia il numero 2 albo che devo recuperare più presto perché voglio vedere come va a finire questa avventura vi faccio vedere un po' di tavole un po' di disegni tratte da questo da questo albo che sono veramente veramente belli allora ecco la bellissima copertina vi faccio vedere l'intro vi dicevo appunto all'inizio c'è questo agente di viaggi che presenta indirettamente il nostro personaggio eccolo qui e poi eccolo qui che esordisce il nostro il nostro mister no all'interno del bar dove viene minacciato da bari nergumeni scazzottata lui esce va in giro per Manaus la ricerca insomma del del suo drink rientra a casa cerca cerca un po' di alcol ma non lo trovo perché l'ha già finito tutto e arriva ecco qui Sam Tucker questo qui è Sam Tucker che si spaccia per ingegnere minerario partono con l'aereo il suo piper eccolo qui in aereo vedete viene minacciato con la pistola alla tempia atterrano ecco vanno alla ricerca del relitto vedete qui trovano il relitto ma dentro non ci sono i diamanti vengono catturati dagli indigeni portati nel loro villaggio dove incontrano appunto Jackson Clark Jackson eccolo qui disegni bellissimi bella anche l'ambientazione anche questa cosa di ambientarlo negli anni negli anni 50 è molto caratteristico vedete loro sulle nelle sabbie mobili intrappolati poi riescono a uscire con la fune un po' così arrangiata col macete si fanno spazio nella foresta fulminacci vedete queste impregazioni così queste esclavazioni un po' d'epoca ecco qui quando loro ripartano col piper ma devo dire che i personaggi sono stati caratterizzati molto 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 bene questo è un personaggio che nonostante io legga fumetti da tanto tempo ho scoperto da poco sinceramente però sono contento perché queste sorprese ti danno la voglia di conoscere scoprire mondi nuovi personaggi nuovi ecco lui insomma che disarmano gli avversari e poi prende il mitra fa fuori tutti e che finisce così il prossimo numero Amazonia bene cari argonauti mentre vi faccio rivedere il mio numero uno che adesso ho imbustato con il cartoncino e che quindi non uscirà diciamo molto presto da questa busta perché lo vorrò conservare più tempo possibile eccolo qua bello spiattellato e sigillato io vi ringrazio per avervi seguito spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia incuriosito seguitene ancora per i video a venire e iscrivetevi cliccate sulla campanella per avere novità mi piacciate il video e commentate fatemi sapere cosa ne pensate ciao alla prossima